Gentili telespettatori, buona giornata. Secondo l'ottimista Galli, il condono, cioè eliminare il Green Pass, sarebbe peggio di fare un condono fiscale. Per lui è corretto mantenerlo, visto che è stato organizzato faticosamente nel tempo. E lì dice, è quasi un condono fiscale togliere il Green Pass, forse peggio di un condono fiscale. E così il professor Massimo Galli ad Agora risponde alle domande sulle ipotesi di eliminarlo, questo Green Pass, uno dei principali strumenti utilizzati dal governo per far vaccinare e convincere più persone a farlo. Aggiunge, se si fanno scelte di tipo tecnico, ritengo sia corretto mantenere quanto è stato organizzato faticosamente nel tempo. La differenza è tra valutazioni generali e scelte di questo o quel politico che vuole portare qualche piccolo vantaggio a casa, dice Galli, già responsabile del reparto malattie infettive del Sacco di Milano. E' un po' la storia di tutti quelli che pagano le tasse puntualmente e poi si ritrovano un condono fiscale. Qui è un po' peggio, è un condono che pesa sulla salute degli altri e la salute è una cosa seria, va rispettata. Allora, io personalmente sono contro i condoni, perché se tu hai una cartella esattoriale vuol dire che non hai pagato delle cose che dovevi pagare. Per quanto possano essere ritenute sbagliate, le tasse sono troppo alte, quello è, ma comunque se ci sono delle cose da pagare e si vive in Italia bisogna pagarle. E cancellare, fare i condoni fiscali vuol dire incentivare questa pratica, perché chi ha avuto il condono dice, bene, io continuo a non pagare sperando che poi anche la prossima volta arriverà qualche politico per caso che per fare un po' di elettori nuovi ci propone il condono fiscale. La promessa del condono fiscale è un'arma elettorale. Ci sono politici in Italia che utilizzano questo come arma elettorale. Ad esempio Salvini insiste sulle cartelle esattoriali, poveri gli italiani che devono pagare, ma se hanno gli italiani delle cartelle esattoriali vuol dire che non hanno pagato prima. Ecco, quindi caro Salvini per esempio i condoni non si fanno, perché è un incentivo a continuare a fare quello che si stava facendo, cioè non pagare. Ecco, a parte la contrarietà mia, i condoni fiscali che sono utilizzati come arma elettorale, togliere il Green Pass peggio di un condono fiscale, no, il paragone non regge. Dice io ho sempre pagato le tasse, a quello gli condonate le tasse. Io ho sempre fatto il vaccino, a quello gli condonate il vaccino. Non è un discorso, non sono due paragoni che calzano molto a pennello. caro Galli, ottimista lui, no, come Tonino Guerra che diceva l'ottimismo è il profumo della vita, è la pubblicità dell'unieuro, no. Ecco, poi aggiunge che i numeri degli ultimi bollettini evidenziano un calo dei contagi. Altri numeri sono elevati, ma lì è un modo di calcolare le cose che fa vedere dei numeri più alti. Lui dice mi piacerebbe avere una spiegazione chiara. Posso aggraffarmi al fatto che il nostro è un paese molto anziano e tra i colpiti di quest'ultima grande ondata ci sono stati molti anziani. Una delle cose che vorrei sapere è quanti sono i casi gravi con Omicron. Però io mi chiedo, realmente questi medici non sanno perché i numeri di un certo tipo sono ancora alti in Italia. Ma non è poi così difficile nel senso che se noi siamo contagiati in maniera enorme in Italia con questo Omicron, che è contagiosissimo e ha contagiato probabilmente chissà quanti quanti e quanti milioni di italiani, è ovvio che se questi italiani contagiati, asintomatici o no, finiscono in ospedale per qualsiasi cosa, gli fanno il tampone e scoprono che sono asintomatici col Covid, loro diventano automaticamente dei malati Covid. È per questo che i numeri sono più alti, perché vanno in ospedale con il Covid, non per il Covid, ma con il Covid. Ecco, in Italia si è sempre contato tutto insieme, con e per tutto un unico numero. Ed è per questo che in Italia i numeri sono più alti e mi stupisco che questi professori non lo sappiano o fanno finta di non saperlo, chi lo sa. Ma lui dice, beh, capire questi dati ci permetterebbe di capire come dovremmo regolarci nei confronti della varianti, che per molti versi è responsabile di una percentuale minore di casi gravi. Ma se i casi gravi sono comunque non pochi, qualche preoccupazione resta per quanto riguarda gli aspetti clinici. A livello epidemiologico generale, dice, è evidente che siamo in una fase di remissione, non dobbiamo trovarci nuovamente in difficoltà in autunno. Non sono pessimisto. Pessimisto? No, pessimista. Vorrei un realismo che impari la lezione. Non dobbiamo buttare via la fatica fatta sinora, dice. Lui dice, abbiamo fatto fatica a inserire questo Green Pass, lo teniamo perché non sappiamo in un futuro. Beh, il medico, un medico magari come Galli, che dice questo, lui c'è la sua pensione, certo non va a ballare, non va tutte le sere al ristorante, credo, pertanto per una persona come Galli, che ci sia il Green Pass o non ci sia, a lui non fa nessuna differenza, per quello che semplicemente dicono, ma teniamolo, no? Teniamolo un altro po', perché cancellarlo? Abbiamo fatto fatica a metterlo, lasciamolo. Perché loro non hanno controindicazioni, mentre altri magari il Green Pass è un ostacolo per andare in vacanza, per prenotare il commercio. Continuando a tenere il Green Pass è un disincentivo a venire in Italia. Lo sapete, no? Come ragiona la gente in giro per il mondo. Ah, lì l'agenzia mi ha detto che in Italia ci sono ancora delle restrizioni. No, no, lascia perdere, prenotiamo da un'altra parte, in Italia ci andiamo poi quando non c'è più nessun problema. Ecco, i turisti stranieri non conoscendo esattamente quello che succede in Italia, quando scoprono che ci sono ancora delle restrizioni, lasciano perdere, prenotano da un'altra parte. Ti capito come funziona? E visto che l'Italia è un paese che vive principalmente sul turismo, non certo vive sulle acciaierie, sull'industria pesante, ma vive sul turismo, questi documenti sono assolutamente controproducenti. Anzi, secondo me lo stato di emergenza avrebbero dovuto revocarlo subito, non aspettare la scadenza il 31 di marzo. Revocato. Come l'hanno messo lo revocano, invece no. E così le prenotazioni per la stagione estiva non ci sono, sono pochissime, proprio perché la gente all'estero vede che ci sono ancora queste cose e lascia perdere. Arrivederci a tutti e grazie.